Il video che stai per vedere è stato girato in chiesa, mentre un prete stava celebrando la consacrazione, quando accade qualcosa di strano. No se preocupe, no se preocupe. Quando il prete viene attaccato rimane calmo, ma forse non ti sei accorto di qualcosa che accade pochi secondi prima che questa donna si lanci verso il sacerdote. Il video è stato girato in chiesa, ma forse non ti sei accorto di questo. Puoi vedere una strana nebbia molto sottile per un millesimo di secondo nella videocamera, prima che la donna si scagli contro il prete. Gli spettatori più attenti hanno notato la strana anomalia e credono che potrebbe essere uno spirito maligno. Altri invece pensano che potrebbe essere un'anima pura che stava proteggendo il sacerdote. Paul era un uomo felice che viveva senza famiglia a parte il suo amato cane, ma da qualche tempo in casa sua qualcosa non andava. Ha girato qualche video per raccogliere prove, ma non è riuscito a scoprire nulla. Ma c'è una clip in particolare che ha attirato l'attenzione degli spettatori. Erano alle 13 e stava spiegando le sue esperienze con gli spiriti e la telecamera, in camera da letto. Ed è stato in questo momento esatto che è accaduto questo. We got some stuff on the spirit box and stuff like that, but it's just been... Stuff like that. Did you just see that? Did you see that? This drawer... What? Oh my goodness. This drawer... Just opened. All by itself. You seen that, didn't you? You seen that, didn't you? And now... Questo evento l'ho davvero spaventato, soprattutto perché l'incidente è accaduto mentre stava discutendo della spirit box. Nel video che stai per vedere è stato ripreso un fenomeno scioccante come quello della possessione. Questa donna stava usando un misuratore K2 destinato a rilevare il movimento di fantasmi nella stanza, quando è accaduto questo. We have captured one of the most scariest videos ever today. I'm still a bit shaken. This is what my dad's camera caught of my reaction. Dad? Dad? Oh my God. Dad? Dad? And this is what my camera caught of my dad. Is it cold? You're roasting. What are you all about? It's got a hell of it as well. It's got a really bad one for me. Freezing. It's hot. It's got a really bad day. It's hot. It's hot. It's hot. Your hot? Oh my god, dad? 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 Yeah! The head. What are you doing? What have you done that? Why have you just shouted that at me? I shouted, stop shouting, I have a headache. Oh my god, what are you doing? I haven't shouted. Yes, you are, you just shouted, get out. I haven't. Your face looks so different. Dal nulla, gli occhi dell'uomo hanno cominciato a roteare e il suo viso è diventato molto diverso. Sua figlia ha iniziato a parlare, ma lui stava semplicemente seduto con lo sguardo assente e non ha detto una sola parola. Il canale di YouTube Alonso Gastelum è solito pubblicare dei video di esplorazioni paranormali e cerca in più occasioni di entrare in contatto con qualche entità. Ed è stato in uno di questi video che sembra aver catturato qualcosa di agghiacciante. Ahi sta la muchacha, amigus. Ahi sta la muchacha. Ahi sta la muchacha. Ahi, ahi. Ahi, que'è eso, que'è eso, que'è eso? Uy. Ahi, quiero saber cómo te llamas. Ahi, amigus, no me diga che tava la muchacha ahi. Se escucha algo bien fuerte. Cómo te llamas? Ahi, amigus. Ahi, amigus. Ahi, amigus. Ahi, amigus. Ahi, amigus. Ahi, amigus. Estas aquí conmigo? Cómo te llamas? Ahi, se volteó. Ahi, se volteó, se volteó, se volteó, se volteó. La volteó la cabeza, la va parar, la va parar, la va parar. Sí. La volteó la cabeza, la volteó la cabeza. Uy, no manches, no manches la cabeza, la volteó. Uy, uy. Uy, me dio miedo, me dio miedo. Cómo te llamas? Ahi, amigus. Cómo te llamas? Ahi, amigus. Mánchez, está llorando, amigus. Está como llorando. Está como llorando. Viva, viva, viva. Mentre l'uomo cerca di comunicare, puoi vedere diverse impronte di mani in varie parti del muro, ma la cosa più strana è il manichino che si muove. Tu a cosa credi?